A Teramo la campagna elettorale non si è mai conclusa, anzi in questo momento le forze politiche stanno facendo andare su di giri i loro motori e c'è attenzione massima sulla scelta dei candidati sindaci della città. Si voterà presumibilmente tra maggio e giugno prossimi. I tempi stringono e a scendere in campo c'è già qualche nome ufficiale. Facciamo un ripasso della situazione fino ad oggi. Si sono autocandidati a primo cittadino di Teramo Alberto Covelli, sostenuto politicamente dall'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino con due liste civiche a lui collegate. C'è poi Serafino Pulcini, ex deputato, Enzo Varani, l'imprenditore che ha finanziato il carnevale teramano e a sorpresa, ma non troppo, l'autocandidatura di Giovanni Cavallari, ex partito democratico, oggi a capo di un movimento civico. Per quanto riguarda i candidati che verranno, i 5 Stelle dovrebbero puntare su Cristiano Rocchetti, un giovane assicuratore del popoloso quartiere di Piano della Lenta, mentre ancora non si fanno i nomi, all'interno di alleanza civica. Nel Partito Democratico Teramano la discussione sul futuro candidato sindaco è aperta, anche se si profila all'orizzonte una personalità di esperienza amministrativa e di spessore culturale fortemente inclusiva. Caratteristiche che sembrano delineare la figura di Renzo Di Sabatino, attuale presidente della provincia di Teramo, apprezzato avvocato penalista, che sarebbe appoggiato anche da personalità cittadine del mondo delle professioni e soprattutto dall'attuale rettore Luciano D'Amico. Adore un'assemblea provinciale del PD per decidere. Si discute per individuare la persona migliore, è un progetto per la città, è chiaro che è un momento in cui si richiede una grande professionalità politica per mediare all'interno di tutte queste informazioni civiche che si leggono sui giornali, che troviamo che si stiano costituendo nel territorio, per cercare di convogliarle tutte intorno a un progetto di città illuminata e importante, di cui in fondo la città di Teramo ha bisogno. Certo il PD esprimerà un proprio candidato, lo individuerà sicuramente all'interno dei propri iscritti o anche simpatizzanti, comunque espressione del PD di professionalità importanti, capaci e spendibili. Anche nel centro-destra la discussione sul futuro primo cittadino di Teramo è aperta, ma le spaccature all'interno non fanno prevedere l'idea di ricompattarsi su un candidato unico come Mauro Di Dalmazio o Gianni Chiodi. Insomma, correranno almeno una decina di candidati sindaci con circa 700 candidati consiglieri, vincerà però chi avrà un vero progetto per la città.